CASTELLAMONTE Incidente nel pomeriggio di sabato 24 settembre, intorno alle 14, sulla strada per Cassio Nuo Nigra a Castellamonte. A scontrarsi frontalmente una forchiesta condotta da una giovane di Castellamonte e una Fiat Punto con alla guida un ragazzo, classe 2003, sempre di Castellamonte. L'impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca del Canavese, la Croce Rossa di Castellamonte, l'elisoccorso del 118, i vigili del fuoco di Castellamonte e i carabinieri. La ragazza è rimasta ferita in modo lieve, mentre il giovane ha riportato alcune fratture ed è stato ritrasportato all'ospedale CTO di Torino. Non è in pericolo di vita. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. La dinamica è il Valle dei Carabinieri di Castellamonte. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.